vedo che per fortuna la situazione degli scioperi ha provocato rallentamenti ma molti arrivi sono poi felicemente insomma giunti a destinazione e quindi possiamo iniziare la sessione di questo pomeriggio quindi buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute a questo secondo momento delle semifinali della disputa classica buongiorno da parte noi che siamo i tre curatori della disputa Marcella Guglielmo che era lì un istante fa e lì si è spostata Massimo Manca che è perso in qualche punto imprecisato della pianura piemontese un po' ostaggio dei treni e benvenuti naturalmente benvenuti anche da parte mia Elisabetta Berardi noi tre siamo curatrici curatori di questa disputa che è giunta alla sua sesta edizione è giunta alla sua sesta edizione perché il festival del classico è giunto alla sua sesta edizione che cos'è il festival del classico lo sapete bene voi amanti frequentatori negli anni di questa straordinaria iniziativa presieduta appunto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale e organizzato qui dalla fondazione del circolo dei lettori e questo festival che si svolge da oggi a domenica qui a Torino riserva proprio uno spazio speciale a noi o per meglio dire a voi cioè alla disputa classica e questa disputa classica vede appunto protagonisti giovani studentesse giovani studenti in gara dei nostri licei. Questo progetto è stato quindi realizzato dal circolo dei lettori con il sostegno della regione Piemonte della fondazione CRT della camera di commercio e al patrocinio della città di Torino così come al patrocinio della nostra università di Torino e in particolare la disputa un patrocinio speciale del dipartimento di studi umanistici che è molto ogni anno appunto di patrocinare questo evento e naturalmente l'evento è realizzato anche grazie ai partner alla Lavazza, alla Reale Mutua e a Irial by Logosnet con la collaborazione del nostro Ministero degli Affari Esteri, dell'Accademia delle Scienze. Ricordo che sabato la finale della disputa classica si terrà presso i locali dell'Accademia delle Scienze, anzi presso la Sala dei Vappamondi per essere esatti e con la collaborazione di dibattito e cittadinanza a Rete del Piemonte e naturalmente del nostro ufficio scolastico regionale e quindi qui ringrazio sia il direttore del nostro ufficio scolastico regionale il dottor Suraniti e ringrazio la dirigente Serena Caruso Bavisotto che ci segue nel tempo anche ben coadiuvata dalla professoressa Laura Morello ma soprattutto ringrazio e vorrei che questo ringraziamento potesse giungere appunto pieno e completo da parte nostra ringrazio Ugo Cardinale che è qui e che veramente se non avesse ideato questo nulla di ciò insomma sarebbe qui e ora quindi molte grazie. Ringraziamo anche tutti i partecipanti cioè tutti coloro che in vario modo hanno con la loro partecipazione realizzato anche gli aspetti ultimi della disputa cioè coloro che per esempio ci hanno permesso anche di concretizzare proprio con un Geras con un premio questo evento e quindi ringraziamo la società appunto i Real by Logosnet nella persona naturalmente del suo fondatore Fernando Salvetti perché ha finanziato i premi che saranno appunto meglio poi elencati il giorno della finale e che vedranno appunto anche un giusto e molto interessante riconoscimento per chi si classificherà al primo e al secondo posto e probabilmente ci sarà anche una sorpresa in più che verrà annunciata sabato corsi di scrittura creativa e di public speaking quindi grazie anche a i Real e grazie ancora anche alla dirigente del liceo Gioberti all'ingegner Miriam Pescatore che ogni anno ci ospita appunto nelle preselezioni e che ci presta ci assiste ci ci dà spazio sostegno in ogni modo e quindi grazie anche a tutti i colleghi a tutte le colleghe docenti che collaborano con noi da sempre fin dal primo e all'ultimo minuto e naturalmente grazie a voi studenti e studentesse e a quegli studenti e studentesse che partecipano anche attivamente alla realizzazione di di questa disputa e grazie quindi a tutte le scuole che hanno accettato oggi di di mettersi in gioco a cosa assisteremo oggi a un dibattito su una mozione subito dopo la morte di Teodosio avrei preferito vivere nell'impero di oriente a confrontarsi a dibattere sul tema saranno la squadra dei nuovi oratori del liceo Cavour e gli argonauti del Giolitti Gandino le caratteristiche del dibattito vi verranno illustrate in seguito così come anche i nostri giudici direi procediamo senz'altro all'estrazione del pro e del contro come ruolo e qui chiederei appunto come vedete fin dal primo momento anche studenti e studentesse si prestano aspetti quello è un gesto utilissimo ma dobbiamo ancora stabilire che cos'è allora noi stiamo per stabilire il ruolo pro e contro e quindi stabiliamo che adesso sorteggiamo il ruolo per la squadra del no allora la faccia cos'era stamattina guardiamo l'effigia beh la rilanciamo dove c'è uno pro e quindi adesso estrauliamo una volta sola perché andrà di conseguenza il ruolo del Giolitti Gandino Lanci e Guarchi e quindi il Giolitti Gandino è contro e invece il Cavour e la squadra pro mentre le due squadre si allontanano in appositi locali per una breve preparazione si sono naturalmente già preparate nei due ruoli ma ora possono procedere con un affondo specifico secondo appunto l'aspetto pro o contro sono molto lieta di poter presentare alla platea una persona che la platea in realtà probabilmente già conosce cioè Olimpia Imperio che oggi è qui con noi e devo dire la verità da anni segue con passione e partecipa appunto a questo evento Olimpia Imperio insegna lingua e letteratura greca all'università di Bari ed è da sempre studiosa del teatro greco in particolare ma non solo della commedia di Aristofane ma non solo e negli anni appunto abbiamo avuto anche modo già di averla a questo festival già per esempio parlato di Esiodo e del tema del lavoro in Esiodo o ci ha parlato della fantasia al potere e insomma attenta appunto anche alle figure femminili e a quello che il mondo antico ci dice di noi donne. Olimpia Imperio ha lavorato e lavora molto sul teatro, sue sono diverse traduzioni sceniche per Linda e quindi insomma poi ha anche collaborato con molte voci all'enciclopedia della commedia greca di Sommerstein e ha lavorato naturalmente sul testo proprio di Aristofane in particolare studiato la parabasi. Domani mattina tra l'altro credo sia domani mattina perfetto domani mattina anche chi frequenta il festival avrà occasione di sentirla sulle supplici di Eschilo su un'interpretazione delle sublici di Eschilo ma oggi è qui con noi per introdurci appunto in questo cammino verso oriente con un titolo devo dire molto 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 seducente e accattivante la catavasi degli argonauti lascio quindi alla parola a Olimpia Imperio. Grazie. Grazie alla professoressa Berardi per questa questione di questo titolo dunque al tempo di Erodoto l'Asia era il centro del mondo per quello che riguarda i greci la parte più creativa della loro società cioè quella l'Ionia risiedeva appunto sulla costa dell'Asia minore quindi in territorio asiatico. Nella narrazione Erodotea l'Europa ancora non esiste è solo il nome di una bella fanciulla la figlia di un re fenicio re di Tiro che secondo il mito Zeus dopo aver assunto le sembianze di un toro avrebbe rapito e posseduto dopo essersela portata a Creta e questa fanciulla appunto Europa invece nella narrazione Erodotea è rapita dai creci dai greci dai cretesi in particolare come risarcimento per un precedente rampiprapimento il rapimento di io la figlia del re di Argo da parte dei fenici i quali se l'erano presa e portata in Egitto. In seguito i greci si sarebbero resi responsabili di una nuova colpa avrebbero navigato sino alla Colchide sulla costa orientale del Mar Nero e avrebbero rapito Medea la figlia del re dei Colchi al quale si rifiuteranno di restituirla dichiarando di non aver avuto giustizia del rapimento della Argiva Io. Poi per ritorsione Alessandro cioè Paride figlio di Priamo re di Troia avrebbe rapito Elena moglie di Menelaure di Sparta dando origine alla guerra di Troia. A ben vedere come rilevava Tucidide nel terzo capitolo del primo libro delle sue storie l'opposizione Europa Asia non si ritrova in Omero dove i troiani parlano greco e non sono meno greci degli Achei e neppure l'opposizione greci barbari. In realtà furono le guerre persiane a fare da catalizzatore a quella retorica antibarbara da cui nascono le topiche equazioni occidente Europa Grecia libertà democrazia versus Asia persa orient persia orienti assolutismo e schiavitù. Equazioni profondamente radicate nella cultura greca del quinto secolo per i persiani di Eschilo da questo punto di vista sono eloquenti ma ne parleremo domattina parlando anche delle supplici. Tuttavia nella versione che nei primi cinque capitoli del primo libro Erodoto attribuisce hanno meglio precisati esperti dotti loghi o i persiani i responsabili della rivalità tra Oriente occidente furono per un verso i fenici i quali dando inizio a questa catena di ritorsioni del Cerce Lafam avrebbero condotto alla guerra di Troia cantata da Omero nell'Iliade per l'altro i greci i quali sopramanzando questa giusta catena di adichia e tisis cioè ingiustizia e risarcimento ritorsione con il terzo rapimento quello di Medea pongono i presupposti per un quarto rapimento quello di Elena che appunto a questo punto viene a essere giustificato come tisis cioè come ritorsione dell'Oriente nei confronti dell'Occidente. Tutti gli elementi di questa serie di eventi sono tratti dalla mitologia greca ma mentre nelle versioni originali dei miti la responsabilità ultima è ascritta agli dei pensiamo al ratto di Europa da parte di Zeus la versione dei dotti persiani riferita da Erodoto è razionalizzata e politicizzata e trasformata in una sorta di apologia pro persiana e filoasiatica che è stato osservato potrebbe essere utilizzata come parte probatoria di un discorso apologetico basato su criteri di diritto internazionale un discorso apologetico di marca che è squisitamente sofistica. Le prime tre donne di questa catena di rapimenti e ritorsioni diverranno icone culturali due di loro eponime delle regioni nelle quali saranno condotte nel secondo libro delle storie quello che contiene il logos egizio la argiva io viene assimilata ad iside la dea madre degli egizi mentre Europa donna fenicia di tiro quindi non greca ma proveniente appunto dal mediterraneo orientale e che non giunse nella terra che ora i greci chiamano Europa ma solo passò dalla fenicia a creta paradossalmente darà il nome alla grecia continentale e Medea. Medea darà il nome che viene dalla colchide quindi dal mar nero darà il nome alla popolazione dei medi così ci dice nel quarto libro in maniera un po dubbiosa Erodoto insomma una osmosi terminologica che appare simbolicamente evocatrice delle passate delle future contaminazioni tra l'oriente occidente e che consente a Erodoto di definire l'essenzione del mondo che costituirà il focus delle sue storie. Argo e Sparta nel Peloponneso, l'Egitto, la Fenicia quindi la costa del Mediterraneo orientale, Creta, la Tessaglia, la regione del Mar Nero, il Golfo Persico e il Bosforo. Erodoto certamente conosceva il mito tradizionale di Medea probabilmente anche attraverso la quarta pitica di Pindaro, la media di Euripide che era stata portata in scena nel 431 secondo cui la maga della colchide non è rapita ma giunge in Grecia volontariamente salpando sulla nave Argo per amore di Giasone dopo averlo aiutato a conquistare il vello d'oro. Eppure dicevo Erodoto sceglie una versione non campanilistica cioè non filo greca. Come è noto la tragedia Euripidea incentrata sul figlicidio commesso a Corinto da Medea ripudiata dal suo sposo non rievoca ma piuttosto presuppone la saga degli Argonauti cioè le peripezie affrontate nel viaggio di andata in oriente alla volta della colchide sulle rive estreme del Mar Nero e il viaggio anche di ritorno in occidente nella regione Tessala di Magnesia da cui gli Argonauti erano partiti in particolare la località era Pagase uno dei porti più importanti della Grecia dove era stata costruita la nave Argo. La spedizione in colchide compiuta dagli Argonauti e gli Argonauti sono il fiore degli eroi della generazione anteriore alla guerra di Troia guerra che Erodoto collocava circa 800 anni prima di lui quindi grosso modo nel 1250 grosso modo e invece notoriamente il focus delle Argonautiche di Apollonio Rodio poema in esametri quattro libri di quasi 6000 versi siamo più o meno a metà del terzo secolo avanti Cristo in cui la vicenda si sviluppa in modo anche qui abbastanza lineare anzi circolare perché appunto è un viaggio di andata e ritorno i primi due libri parlano della partenza degli eroi e del viaggio in colchide il terzo libro comprende le vicende che portano alla conquista del vello d'oro conquista per la quale è decisivo il ruolo di idea e il quarto racconta la fuga dalla colchide e il viaggio di ritorno è noto che l'impresa degli Argonauti è una delle più affascinanti del mito greco anche perché il tema del viaggio sulla nave Argo si intreccia non solo con le mille avventure istitute nel corso del viaggio con la storia d'amore tra Giasa e Medea ma anche con temi che hanno a che fare con le conquiste tecnico-scientifiche dell'età alessandrina perché Argo per esempio la nave Argo è la primissima nave mai costruita che segna l'inizio della navigazione nell'immaginario dei Greci quindi perché parliamo di una di una impresa che anteriore di gran lunga anteriore alla guerra di Troia e per la costruzione di questa nave occorrevano conoscenze che prima di allora nell'immaginario dei Greci erano a pannaggio esclusivo degli dei quindi conoscenze competenze matematiche geografiche astronomiche la spedizione degli Argonauti ai confini orientali del mondo conosciuto nella versione mitica si rivela una spedizione allegorica in cui si narra non solo di una missione civilizzatrice appunto dell'eroe occidentale che va in oriente ma anche dell'incontro tra occidente e oriente quell'incontro che aveva già elaborato un tra quell'oriente che aveva già elaborato un sapere matematico astronomico astrologico già maturo che in verità diciamo in occidente si sarebbe appieno sviluppato soltanto diciamo nell'elenismo avanzato e questa spedizione è di fatto il corrispettivo mitico letterario del viaggio che Alessandro Magno di Alessandro Magno alla conquista dell'oriente sapete Alessandro Magno è arrivato sino al fiume Indo ha elenizzato l'Afghanistan l'Iran l'Egitto prima di diciamo arrivare ad attaccare d'aria ed è l'ergonautica polona e l'erodio sono il poema alessandrino del viaggio archetipico del viaggio cosmico che avrebbe in seguito fatto corrispondere le tradizioni mitiche ai progetti imperiali e globali dei tolomei i più potenti eredi di Alessandro Magno i sovrani del regno d'Egitto fondatori della biblioteca di Alessandria e anche del regno degli Attalidi sovrani dell'Asia minore fondatori della biblioteca di Pergamo gli uni e gli altri tolomei e Attalidi ben consapevoli dell'impatto che poesie erudizione e cultura in genere potevano avere sull'elite dei popoli che intendevano dominare l'epopea degli argonauti rappresenta dunque la necessità e la curiosità dell'uomo di esplorare l'ignoto per approdare a un mondo diverso per usi costumi lingua cultura ma è anche un viaggio di formazione del giovane eroe che con la conquista del vello e con la conoscenza dell'amore attua il suo rituale iniziatico di passaggio verso l'età adulta ebbene a distanza di altrettanti secoli rispetto ai secoli che separavano erodoto dalla guerra di troia e quindi diciamo alla metà del quinto secolo dopo cristo questo viaggio di iniziazione e formazione viene riproposto nelle argonautiche orfiche che trovano la loro plausibile collocazione nel clima di sgomento e smarrimento generato dallo sfacelo della disgregazione della compagine imperiale come efficacemente descritto nelle testimonianze di molti scrittori testimoni del mondo pagano come il prefetto Rutilio Nemaziano e del mondo cristiano come Orienzio Orozio quando cioè il momento in cui gran parte dell'impero romano d'occidente era occupato dalle invasioni di altri barbari ben diversi dai persiani dall'invasione dei goti dei vandali dei franchi dei burgundi degli uni che imperversavano per esempio nell'area balcanica minacciando l'imperatore d'oriente teodosio secondo e in un contesto quindi peraltro storico culturale contraddistinto da spinte spiritualistiche promosse soprattutto nel neoplatonismo ed anche dal perdurare di un retaggio diciamo di sedimentazione della sapienza antica e in effetti la scelta della leggenza epica forse più antica della cultura greca in unita a uno stile arcaizzante e all'amore per i dati eruditi sono i tratti fondanti di questo poemetto anonimo di poco più di 1370 versi che come vedremo appare uno strumento di sintesi della cultura della grecità pagana l'impresa ergonautica la cui fortuna era un po calata era passata di moda diciamo dopo il grande poema di Apollonio Rodio recupera invece un ruolo di primissimo piano nell'età tardoantica specie se come nel caso di questo poemetto viene rivisitata in chiave orfica nelle ergonautiche orfiche il viaggio della prima nave che appunto ha solcato il mare diventa l'emblema di un modo di esistere che è appunto quello del viaggio del viaggiare la navigazione come scelta trasgressiva ma anche come imperativo necessario per un viaggio di purificazione implica comunque un vagare erratico in questa nuova narrazione risalendo la corrente del fiume Fasi la nave Argo giunge fino alle porte dell'Ade e alle rive della Cheronte perciò parlavo di Catabasi. Le simplegadi sono gli scogli che sono posti a mo' di barriera all'ingresso del ponte Ussino del Mar Nero ed evocano l'idea del passaggio tra la notte e il giorno come di chi da vivo ha varcato i confini dell'Ade ed è poi tornato sulla terra ed è questo il senso della narrazione fatta in prima persona da Orfeo al suo discepolo museo nella sua della sua partecipazione all'impresa di Giasone e quindi rievoco riassumo molto brevemente diciamo il contenuto di questo poi metto c'è un'invocazione ad Apollo che sostituisce l'invocazione alla musa poi c'è un apostrofe a museo mai nominato esplicitamente mai indicato come l'uro ergos cioè il suonatore di lire esattamente come Orfeo e poi Orfeo passa ad annunciare la sua intenzione di raccontare queste vicende mai svelate prima e si presenta come un esiodeo maestro di verità e snocciola un catalogo cosmogonico teogonico con un resoconto di tutte le sue esperienze di tutti i suoi viaggi viaggi che includono anche tappe in Libia in Egitto insomma si propone come il detentore di un sapere ispirato e universale come il prototipo del filosofo neoplatonico come benefattore eroe benefattore civilizzatore la cui opera di divulgazione del sapere spazia dalla teogonia greca ai canti funibri degli egizi e alle sacre di Bagioni di Osiride così dice Orfeo a museo concluso il catalogo Orfeo annuncia a museo appunto la nuova impresa letteraria l'epos orgonautico riservando però poco spazio ai primordi della vicenda mitica ma sottolineando soprattutto il fatto che Giasone si è spinto personalmente dalla tessaglia fino alle vette della traccia dove Orfeo viveva chiuso in una caverna e qui ovviamente non posso soffermarmi sulla valenza altamente simbolica della caverna come luogo iniziatico nella Legoresi appunto neoplatonica anche neopitagorica oltre che neoplatonica e dunque Orfeo insiste su questo cioè che Giasone si è ricato da lui l'ha supplicato di partecipare all'impresa perché la sua presenza diciamo il ruolo che Orfeo svolgerà nella realizzazione dell'impresa cioè la conquista del vello d'oro sarà molto più determinante molto più incisiva di quella che era stata la presenza di Orfeo nelle argonautiche di Apollone Erodio dove svolgeva fondamentalmente il ruolo di musico capace di incantare domare le fiere domare i mari invece qui invece tenere a riparo gli argonauti dal richiamo delle sirene ci sono diciamo delle sirene di appunto di odissiaca memoria quindi invece il ruolo di Orfeo in queste nelle argonautiche di Orfeo è quello è ben diverso diciamo Orfeo è l'unica garanzia per una conclusione positiva dell'impresa argonautica perché perché è già andato nell'Ade è andato nell'Ade è tornato nell'Ade è tornato dall'Ade ha già svolto una catabasi ancorché fallimentare perché è fallito nel suo tentativo di recuperare Euridice e tuttavia l'unico dice Giasone che ha attraversato le tenebre e ha percorso la via del ritorno dunque l'esperienza di questa prima catabasi consente a Orfeo di affrontare questo secondo viaggio iniziatico per il quale appunto la prima catabasi assume un'importanza fondamentale inedudibile quindi l'impresa argonautica la cosa interessante è questa che mentre diciamo nella tradizione letteraria della biografia di Orfeo la vicenda della discesa all'Ade della catabasi precede immediatamente la morte del cantore nelle argonautiche orfiche l'impresa argonautica si interpone tra i due eventi cioè tra la catabasi alla ricerca di Euridice e la morte quindi il primo viaggio è chiaro che la catabasi alla ricerca di Euridice non può che influenzare essere determinante per la buona riuscita del secondo viaggio perché questo secondo viaggio dopo una risalita agli inferi implica naturalmente una maggiore coscienza una maggiore conoscenza in assenza delle quali gli argonauti si rifiutano di intraprendere il viaggio e infatti Giasone nella sua supplica dirà Orfeo senza di te parlando degli altri eroi degli argonauti dice loro non credono di poter navigare verso barbare genti perché tu solo fra gli uomini sei giunto all'oscuro regno delle tenebre e all'altro estremo al fondo della terra venerabile trovando poi la via del ritorno quindi il viaggio degli argonauti rappresenta un valicamento dei confini e nel mito appunto nel mito argonautico la traccia l'Egitto erano gli estremi geografici oltre i quali né l'esperienza di Orfeo né la conoscenza umana si erano mai spinte e l'imperativo di Pelia a Giasone imponeva proprio il superamento di questi limiti sino al raggiungimento del limite estremo dell'estremo oriente che era rappresentato dalla Colchide in questa ottica l'itinerario delle argonautiche orfiche mostra delle diciamo novità punti di originalità per il ritorno degli eroi l'anonimo autore delle argonautiche orfiche sceglie di rifarsi a una tradizione per cui la nave Argo raggiunge tramite il Tanai l'attuale fiume Don l'oceano boreale e da qui si dirige verso ovest nelle acque dell'Atlantico rientra nel bacino del Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra e in questo modo l'esperienza di Orfeo e degli argonauti implica non solo la conoscenza e superamento dell'estremo occidentale del mondo cioè le colonne d'Ercole ma anche lo spostamento del limite settentrionale dalla traccia che è patria di Orfeo alle coste dell'oceano Atlantico ed è un'impareggiabile occasione di conoscenza per chi li partecipa. Naturalmente la parte più significativa di questo viaggio a inizio con la conquista del vello è con il ritorno perché accadono una serie di peripezie tra le quali la più significativa che distingue il testo delle argonautiche orfiche da quello di Apollone Orodio è l'uccisione del fratello di Medea a Psirto che negli argonautiche di Apollone Orodio avviene sulle rive dell'istro nel corso dell'inseguimento operato da Psirto nei confronti della sorella, negli argonautiche Orfeo avviene incolchide e quindi diventa un atto di empietà di cui si macchiano gli argonauti che richiederà un rito di purificazione che soltanto Orfeo appunto sarà in grado di fare. In ogni caso con questo viaggio di ritorno diciamo molto periglioso, gli argonauti devono affrontare di nuovo la quarenta del Fasi, la nave raggiunge poi il Bosforo, da qui il corso del Tanai poi attraversa la palude Meotide, anche qui c'è un altro passaggio cruciale, il passaggio della nave dall'oceano boreale all'Atlantico, un ex oceanechismos, cioè un'occasione in cui la nave dell'Argo passa appunto da un oceano all'altro, quindi anche questo una transizione, un trapasso e questa faticosa risalita del Tanai che termina poi nell'oceano viene svolta dagli argonauti con il cuore dolente, affranto per l'impietà di cui si sono macchiati e per l'ira degli dei che si sono attirati. Quindi diciamo non è un viaggio trionfale, il viaggio di ritorno di questi argonauti, tutt'altro, è un viaggio intriso di mestizia e di stanchezza. Ora la spedizione, quindi questa spedizione argonautica nelle argonautiche orfiche per Orfeo come anche per Jason e come per tutti gli argonauti non è più un percorso eroico ma è appunto una specie di nostos dell'anima nel quale Orfeo ha quasi il dovere di fruttare la sua conoscenza per aiutare e condurre alla salvezza, quindi un percorso iniziatico di salvezza, i giovani eroi che sono appunto gli argonauti. Dunque a questo punto naturalmente sorge spontanea la domanda qual è il motivo della scelta di un mito che in campo letterario aveva vissuto, come dicevo, un certo calo di interesse dopo l'amirabile opera di Apolone Rodio. La leggenda argonautica era, diciamo, un po' caduta fuori moda, dicevo, nel IV e V secolo d.C. rispetto al ciclo troiano, alle pericolazioni di Odisseo, alla saga di Dionisiaca, eppure rappresenta una delle componenti più celebri della letteratura greca alcaica e quindi sceglierla significa rievocare un passato glorioso e solido, un passato che costituisce la radice della secolare cultura greca e che ora, nel V secolo d.C., il cristianesimo minaccia di cancellare. Quindi occorre riflettere sul particolare valore attribuito alla figura di Orfeo sia dal fronte pagano che da quello cristiano. Il recupero e la rivalorizzazione della tradizione orfica conoscono un impulso significativo, lo sappiamo tutti, a partire dal II secolo d.C., proprio quando la nuova religione inizia a mettere in discussione le posizioni della cultura pagana. Per la sua collocazione, per la sua antichità, per la conoscenza dei riti della grecità più antica, oltre che per gli scritti che gli vengono attribuiti e per la sua musica, Orfeo è considerato dai pagani Cosmegistostonellenon, questo lo dice Diodoro Sicolo nel quarto libro delle sue storie. Quindi è precursore di Pitagora e quindi il simbolo panellenico e rappresentante di quella tradizione che rischia ora la scomparsa. E questa è la ragione per cui i pagani tardi scelgono di fondare la difesa della loro cultura proprio sulla figura di colui che, diciamo, ne è stato in una qualche misura il capostipide. Mi piace, ecco, sì, sono riuscita a stare nei tempi miracolosamente. Allora, a questo punto però vi propongo di fare un ulteriore salto, siamo passati da Erodoto al III secolo a.C. e al V secolo d.C. Allora propongo un salto ancora più rocambolesco e cioè alla letteratura italiana del Novecento per chiudervi, lasciarvi con un'immagine e chiudere con un'immagine abbastanza, credo, suggestiva e comunque che forse dovrebbe far riflettere noi moderni. Cioè questa antieroica catabasi del Citarodo degli Argonauti, Orfeo, sembra aver ispirato, almeno a me sembra aver ispirato, dico a me perché l'autore non lo dice, anzi dice esattamente il contrario, sembra aver ispirato il viaggio mitico in Oriente che nella serie degli appunti che vanno da 36 a 40 di Petrolio di Pierpaolo Pasolini vengono descritti come un rifacimento, una riscrittura delle Argonautiche di Apollonio Rodio, salvo che poi Pasolini stesso dice che questo viaggio mitico verso l'Oriente va inteso come viaggio di iniziazione e di cui è protagonista Orfeo, non Giasone e lo definisce, Pasolini definisce questo viaggio come un viaggio secondo, cioè esattamente come la catabasi seconda di Orfeo. La prima catabasi di Orfeo era stata quella nell'Ade alla ricerca di Euridice, la seconda catabasi è stata questo viaggio diciamo in soccorso degli Argonauti per recuperare il vello d'oro, ma anche viene descritto e vissuto da Orfeo come una nuova catabasi. Ebbene Pasolini parla di un viaggio secondo, di una catabasi seconda, dopo quella e fa riferimento proprio alla catabasi prima, cioè quella nell'Ade che Orfeo aveva fatto e ne parla a proposito del viaggio secondo di Carlo, protagonista di Petrolio, in Oriente alla ricerca del petrolio che è il nuovo vello d'oro del mondo moderno. E mi piace concludere appunto con due frasi tratte da due degli appunti di questa riscrittura, ovviamente diciamo solo abbozzata delle Argonautiche, secondo Pasoliniane, di Apollonio Rodio, secondo me Orfeo, e mi piace concludere con appunto solo due frasi. Una tratta dall'appunto 36e di Petrolio, in cui a proposito dei moderni, Orfeo, cioè Pasolini per bocca di Orfeo, nel capitolo che si intitola Meditazione di Orfeo, dice, noi moderni forse siamo gli ultimi e infatti il nostro sogno è molto vicino alla realtà, alla banale mappizzazione di ogni luogo. Noi moderni siamo tardi, siamo marci alessandrini, siamo uomini colti che chissà come hanno ancora una certa possibilità di iniziazione. Eppure da questo viaggio di iniziazione, ricostruito appunto in queste Argonautiche Pasoliniane, proprio l'Orfeo Pasoliniano ritiene che sia meglio non tornare. infatti in un altro appunto quasi successivo, l'appunto 36g, intitolato Testamento di Orfeo, un altro appunto appunto di Petrolio, Orfeo dice, lascia come testamento suo testamento spirituale queste parole agli Argonauti, ai compagni del suo viaggio. Ricordatevi di quello che vi dice un poeta dalla tomba, una tomba vicino a un pozzo petrolifero. Voi non siete tardi, non siete seriori, siete gli ultimi. Se tornate indietro con le nuove notizie, nessuno mai potrà più viaggiare come avete fatto voi, cioè gettare fondamenta di sogno per ulteriori viaggi realistici. E quindi mettete incinte scimmie con teste di serpente o zampe da anatroccolo, non più medee, a testimonianza del fatto che, diciamo, ogni velleità di normalizzazione di un mondo altro, lontano, fantastico, reale che sia, di ricodificazione di un mondo distante dal nostro, quello che noi diciamo genericamente, approssimativamente definiamo mondo orientale, ogni istanza di normalizzazione di quel mondo così strano per noi è destinata a fallire. Molte grazie a Olimpio Imperio per questa sua introduzione al dibattito e adesso ho compreso pienamente il titolo. Bene, adesso le due squadre che hanno avuto un tempo adeguato di preparazione saranno richiamate e intanto inizio a presentare la nostra giuria, ovvero oggi pomeriggio saranno giudici del dibattito Michele Zaio, Paolo Sacerdoni e Mario Bertelli. E oggi altro ruolo chiave sarà rivestito dalla nostra Maria, che è lì, scusate abbagliata dalle luci, non vedevo. Maria sarà la nostra moderatrice, Maria è una studentessa dibattente e affiderò a lei il compito di introdurre per chi non conosca il meccanismo del debate e in particolare questo della nostra disputa classica come appunto si procederà per le squadre per il dibattito e le passo quindi molto volentieri il microfono perché altrimenti Maria non può diciamo svolgere questo ruolo. Ok, grazie mille. Oggi assisteremo a una disputa classica. Nelle dispute classiche ci sono due squadre che si scontrano su una mozione, la squadra pro e la squadra contro. I primi tre interventi di entrambe le squadre si alternano e durano sei minuti. Questi sei minuti hanno una determinata scansione temporale che verrà da me segnalata così. All'inizio ci saranno due squilli, passato il primo minuto uno squillo, al quinto minuto un altro squillo e al sesto minuto, ovvero la fine del tempo a disposizione per fare un intervento due squilli. La frazione temporale introdotta tra uno squillo e uno squillo dura cinque minuti e va a determinare quella zona in cui è possibile fare domande, quindi in cui uno speaker può fare domande a un altro speaker che sta esponendo una mozione. Poi ci sono le repliche. Le due repliche vengono in ordine alternato, inverso, rispetto all'ordine precedente nel dibattito e durano soltanto tre minuti. All'interno delle repliche non è possibile fare domande e vengono determinate all'inizio da due squilli e alla fine da tre squilli. La mozione di oggi è subito dopo la morte di Soodosio avrei preferito vivere nell'impero d'Oriente. Dunque ora chiedo agli speaker delle due squadre di presentarsi. Squadra Pro è iniziata a presentarvi, grazie. Sì, grazie. Sono Alessandro Alcaro, se... Ok. Io sono Sperossa e sono la prima speaker. Alberto Macanio, secondo me. Passo ora la parola al primo speaker della squadra Pro. Non c'è civiltà senza stabilità sociale. Aldo Sachs. Buongiorno a tutti, sono Matteo Gonzi, primo speaker Pro alla mozione. Subito dopo la morte di Soodosio avrei preferito vivere nell'impero d'Oriente. Spendiamo un attimo i termini. Per subito dopo intendiamo 40 anni dopo al massimo, prendendo in analisi una generazione. E per l'impero d'Oriente intendiamo questo enorme impero che si estendeva dall'Illirico, la Dacia, la Macedonia, la Traccia, l'Asia minore, il punto, il conto e il trattamento dell'Egitto. Ma proviamo un attimo a contestualizzare il mondo. Discutiamo la mozione qui oggi. Dall'Occidente ci giunge la terribile notizia che Roma viene assediata. Compra peso d'oro l'incomunità dei cittadini. Dopo queste estorsioni riprende l'assedio. A quelli che già sono stati privati dei beni si vuol togliere anche la vita. Tiene a mancare la voce. Il fianco mi impedisce di portare. La vita che ha conquistato il mondo. San Girolamo. Il passo di Girolamo esemplifica la condizione in cui verteva l'Occidente. È stato caduto di Piozzano. L'Occidente è dilaniato dalle guerre. L'Occidente è dilaniato anche dalle lotte interne. Per esempio, tra le silicone che viene ucciso dallo stesso imperatore Onorio. Incapace di gestire le carabari. Al punto di ridersi assediata nel 410, la città che ha dato vita alla Romanità. San Girolamo. Questo è un evento tanto simbolico quanto pratico. Che segna la fine di una Romanità. Non in senso di più. Poiché Roma continua a vivere a questa vita. Maio, infatti, si chiamavano così. E erano davvero romani. Mentre l'Occidente è brutta, in Oriente prospera la civiltà romana, osservando leggi, abitudini e civili. E a Roma, la città d'oro, questi erano solo alcuni dei toponimi dati a Costantinopoli, la nuova capitale dei Romani. Il territorio della capitale esemplifica lo splendore di l'Occidente, quello orientale. l'Occidente è un intero che è continuo e stabile. Ciò permette che ci sia una possibilità, cioè che l'intero perduri e garantisce un ampio magico, quello che appunto è l'Occidente. Questi sono tutti che fanno affermare con sicurezza che, subito dopo l'amortizio, avremmo voluto vivere in un intero stabile, ma soprattutto prolifico, in un intero d'Oriente. Il nostro valore è la continuità grazie alla stabilità, è nato in tre punti della nostra vita. Avrei preferito vivere in un intero d'Oriente perché, primo punto, è la continuità per il territorio e il territorio, secondo punto, perché vi era una migliore situazione economica e terzo punto, perché vi era un migliore ambiente fisico. Posso spiegarvi ora il primo punto della nostra vita. Avremmo voluto vivere in un intero d'Oriente perché vi era una maggiore stabilità, territoriale e politica. Il quadro dell'intero vizialista sembrava come estremamente stabile rispetto a noi. La migliore gestione di questi fattori e dalle regioni centro-europeine, stati, sud-oceano, permise così un saldo controllo dei conflitti, che diede origine ad una stabilità interna non solo in grado di preservare l'unità dell'impero, ma anche la solidità economica, sociale e culturale, che vi verrà esplicata attraverso l'intero d'Oriente. Tenga presente che, ad esempio, dopo il 388 la battaglia di Granopoli, l'etercito orientale non subì più particolari colpi da parte degli ordini germani, per molto e molto più. Ciò non fu lovuto sulla posizione particolarmente strategica di costanti popoli e della solidarietà delle sue terze soldate per la società territoriale ed economica, ma anche dalla grande abilità diplomatica, dalla grande capacità di dialogare con gli altri popoli, nella quale l'Oriente sta sempre particolarmente abito. Porto un esempio. La corte di Arcadio, il figlio di Sottosio, l'interattore di Sottosio, perso l'evidente superiorità in termini di società diplomatica, a deviare le minacce, anche serie, del visigoto Larico, fatto tutto magister militare, trattenendo con lui il rapporto di alleanza. Stato un po', anche gli occidentali provarono a fare lo stesso, ma fallirono, fallirono a tal punto da provocare nel 4 Stelle il fatto di Roma, ad opera dell'Oriente. San giro la nostra vita, la fine dell'Oriente, che sconvolse tutto il mondo, simbolicamente il declino della Romanità e l'Oriente. Ma ci domandiamo noi, quale effetto può avere rispetto a questa migliore società politica e sociale, oltre a un maggiore senso di sicurezza che ogni cittadino fa effettivamente di una persona, poiché ha continuo invasorato nel territorio o dello scopoio. Come vi verrà spiegato poi successivamente in Spagna, può affermare che si percebe la grande Romanità, tanto che tra di essi i Romali, oggi siamo qua noi a presentarvi un Oriente. avremmo voluto dire che era davvero adoro il luogo in cui la Romanità e i Romali parono a vivere, mentre in Occidente la patria era scomparsa ed era all'Oriente in cui volevamo vivere. Il luogo in cui la Romanità continua a vivere, stabile e prolifico, attraverso tre punti di tono, perché vi era un migliore ambiente di vita e perché vi era un migliore ambiente di a vivere. Grazie. 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 e frequento la terza classica di Torino e sono la prima oratrice della squadra contro. Noi sosteniamo che dopo la morte di Piodosio fosse meglio vivere nella parte occidentale dell'imperatore. Per dimostrarvelo ci avveremo di tre principali argomentazioni, la prima delle quali ci parla delle invasioni barbariche che avvennero dopo la morte di questo imperatore, che cosa comportarono, insomma come reagì l'imperatore e parleremo dei sistemi politici e giuridici che invece quest'imperatore decise di intraprendere per governare la sua parla di impero. In tema di iniziare vorrei giusto fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'epoca storica. Infatti, come ha detto prima il mio avversario, vediamo comparire la figura di Piodosio a partire dal 379, poiché nel 388 ci fu la battaglia di Adrianopoli in cui aveva confitta di Valente da parte dei Gossi. Da quel momento lì l'imperatore Graziano che era l'Augusto d'Occidente dichiara come Augusto d'Oriente Teodosio. Non appena lui ebbe questo incarico, insomma dovete subito affrontare alcune problematiche, la prima delle quali era sicuramente l'emergenza vettata dalla continua invasione da parte dei Goti, insomma essi volevano infatti superare il limite per Carlo. Inoltre dovete anche affrontare il problema dell'esercito che era sempre più difficile da reclutare ma non che è anche più difficile. Per risolvere il problema dei Goti il nostro Teodosio attuò una politica di compromesso. Infatti l'ultimo trattato che avvenne nel 382 vide i Goti come loro litti, come dei federati. Quindi con questo trattato lui riconobbe ai Goti lo status di federati e quindi di alleati dell'impero. Nel 383 poi Graziano muore in una battaglia e ci sono varie rotte per prendere il suo posto, alla fine emersi la figura di Eugenio che era un pagano, perché era un cristiano insomma a favore delle religioni pagane, una cosa che Teodosio non poteva assolutamente sentire. Infatti lui insieme all'aiuto del re dei Goti, dei Goti, alla Ricco proprio per questa politica di compromesso riuscì a sconfiggere Eugenio nel 394 presso la battaglia avvenuta al fine emersi. Da quel momento lì Teodosio divenne anche Augusto occidente. Lui fu l'ultimo imperatore a governare da entrambe le parti sia oriente che occidente. Poco prima della sua morte, siamo intorno al 395, lui lascia in regionale i suoi figli Arcadio e Onorio le rispettive parti dell'impero. Ad Arcadio che era il figlio più grande, il ragazzo intorno ai 18 anni lascia la parte orientale, mentre al figlio Onorio che era piccolo, insomma un bambino di 12 anni lascia la parte occidentale. Stanno invece ora alla nostra argomentazione. Vorrei parlare di un attimo di Onorio. Onorio era un bambino appunto di 12 anni quindi unità molto giovane per poter gestire una parte di impero grande come quella occidentale e quindi il padre per far sì che insomma potesse governare raffiancò il comandante dell'esercito, il Militum Magister il Stilicone e ci tornerà utile poi avanti perché ne parleremo meglio dopo. La documentazione di cui parlerò io saranno le invasioni barbariche infatti noi è vero che associamo le invasioni barbariche molto più all'Occidente rispetto all'Oriente ma in realtà i barbari, parlando anche nei secoli precedenti erano già entrati nel Limes molto spesso come mercenari sia ad Occidente che ad Oriente fu il potere centrale debole a non riuscire a frenare l'avanzata di questi popoli che però non sempre hanno delle sposi ma molte volte anche pacifici domando barbarici che danno poi stabilità ad un potere che nel tardo impero era soggetto ai capricci dell'esercito per esempio l'anarchia militare avvenuta nel III secolo a.C. I barbari così come vengono definiti le popolazioni che si trovavano oltre il confine quindi oltre il Limes e venivano indicate dai romani come dei popoli rozzi, arretrati che non avevano nulla a fare con la loro cultura ecco questo Limes che stava il confine tra queste due popolazioni in realtà era anche un confine fra i due mondi che era un terreno di scambi, di rapporti tra loro in particolar modo per quanto riguarda i rapporti commerciali che erano già intensi ai rapporti ai tempi di Tacito e che ancora più vogliono divendere quindi è utile pensare come in realtà questo incontro fu molto utile anche per i rapporti poiché superarono questo Limes materiali come i tessuti come i vasi d'argento, di bronzo le ceramiche, le armi anche ci può anche il mercato sociale che comunque contribuì anche alla rinascita di un esercito quindi insomma questo aiutò anche ad aprire la mentalità dei romani che iniziano a vedere queste popolazioni non più come rozza, arretrate ma come civili fabbili e anche possibili alleati pur insomma vedremo inoltre è utile sottolineare come queste invasioni furono anche utili per quanto riguarda la progressione in ambito magari come linguistico infatti se non fosse stato per l'invasione di queste popolazioni quindi anche l'unione delle due culture magari le lingue di oggi non sarebbero anche infatti ricordiamoci che i dialetti che erano già presenti nel stesso Roma insomma si unirono alle lingue di superstrato che erano quelle parlate dalle popolazioni che invasero i territori romani e si crearono quindi le lingue romanze con le loro varianti dialettali che erano proprio un insieme di unioni di queste lingue quindi vediamo come ebbero anche un giusto per quanto riguarda la cultura inoltre concludo dicendo che lo stesso Stilicone prima che era il comando dell'esercito a cui il nostro Teodosio lascia il figlio lui era dirigente bandara quindi vediamo come in realtà la mentalità che i romani fosse già un po' più aperta rispetto a questo quindi lui era dirigente bandara e era un esponente dell'elistocrazia militare germanica e vedeva nell'incontro tra queste due popolazioni una grande possibilità e per entrambi di unione proprio per questo lui attuò anche una politica di progressiva integrazione dei barbari nello Stato romano insomma con questo io concludo il mio intervento e ringrazio a tutti per l'ascolto 6 minuti e 45 secondi e ringrazio a tutti per l'ascolto e ringrazio a tutti per l'ascolto della squadra pro non c'è civiltà senza stabilità sociale Aldous Axley buongiorno a tutti buongiorno squadra del Sato sono Alessandro Alcaro secondo speaker pro alla mozione e mio onere iniziare appunto con la conflutazione di quanto appena la squadra contro la squadra contro adotta il termine invasione l'invasione porta con sé la creazione fortemente del movimento poi a nostro modo di vedere non ci avete presentato quantomeno condizioni era l'aspetto centrale dell'emozione secondo la nostra la nostra casa è vero che avete parlato di compromesso teodosiano quindi cosa che fondamentalmente risce di non poter animare i goti e quindi crea questo compromesso tant'è che i goti rafforzeranno la forza militare dell'impero d'occidente però la mozione odierna ci chiede di parlare di quel periodo storico che è successivo alla morte di Puglielo dopo la morte di Puglielo ancora avete apportato l'esempio di Arcadio appunto Arcadio imperatore d'Oriente Arcadio era sicuramente un uomo anzi un giovane ragazzo ma estremamente risoluto tant'è che individua proprio nelle relazioni diplomatiche tra il vandalo stilicone e appunto Alarico un motivo di alto tradimento appunto dell'impero romano quindi sicuramente noi preferiamo un governatore un imperatore quale Arcadio che garantisce una maggiore stabilità politica avete poi voi stessi parlato appunto di popolazioni di tradizione germanica Barbara come popolazioni rozze arretrate è chiaro che questo mina la stabilità dell'impero secondo la nostra visione per l'opera avete poi portato fortunamente anche l'esempio di Stilicone come appunto esempio di sicura che sicuramente fa portavoce di questa commissione culturale tra i due mondi ebbene era di tradizione Barbara germanica anche alla Ricco la Ricco era quanto di più lontano da quest'ottica appunto di commissione culturale alla Ricco è colui che nel 410 pochi anni dopo la morte di Prodoso arriva a Roma arriva a Roma e la distrugge porta via le ricchezze di Roma questo come può garantire condizioni di vita migliori nell'impero nell'impero d'Occidente rispetto appunto all'impero all'impero d'Oriente poi non è vero che nell'impero d'Oriente i tentativi vengono di fatto del tutto evitati ve lo dimostreremo appunto presentando gli altri punti della nostra linea argomentativa secondo noi dunque l'impero d'Occidente non poteva garantire condizioni di vita migliori noi non avremmo preferito per nessun motivo vivere in un contesto storico di questo tipo tant'è che appunto San Girolamo dopo il sacco di Roma afferma che una volta caduta Roma sembrava che cadesse il mondo ed è una visione che riportano vari storici contemporanei come appunto vedremo anche nel corso di la Ringa presento gli altri due punti della nostra vita noi avremmo preferito vivere appunto nell'impero d'Oriente perché vi era una migliore situazione che in Oriente vi fosse appunto una situazione economica più florida garantita sicuramente appunto da una stabilità politico-territoriale è un dato che tutti gli storici confermano la crescita economica fu sicuramente incentivata anche dalla secolare tradizione ufana tradizione appunto praticamente orientale pensiamo già ad esempio all'epoca delle poleis e anche appunto del tempo dei regni ellenistici questa tradizione urbana implica sicuramente un sistema economico ben più complesso che permette alle masse urbane di non essere più tenute ad autoprodurre appunto i beni di prima necessità ma ben più complesso a riscapito invece di un occidente dove prevale ancora l'economia fortemente ruralizzata e che anzi continuerà a ruralizzarsi sempre di più infatti appunto noi sosteniamo che a livello commerciale l'oriente godesse appunto di una posizione strategica estremamente congeniale per esempio appunto la città di Costantinopoli e appunto a cavallo tra oriente e occidente la via della seta aveva appunto come destinazione ultima prima della distribuzione in tutta Europa proprio la città di Costantinopoli quindi sicuramente aveva un grande di progresso oltre che dal punto di vista anche culturale sicuramente noi vi portiamo tra l'altro anche quanto sostiene Max Weber economista e sociologo tra 1900 e 1900 Max Weber mette in luce proprio la regressione economica che si verifica in occidente da economia monetaria a economia naturale quindi si torna al baratto diretto in occidente luce proprio l'aspetto di regresso culturale che si verifica in occidente sicuramente non vi erano condizioni particolarmente agevoli per vivere in oriente invece la moneta continua ad essere battuta e la moneta è collante oltre che dal punto di vista anche sociale e culturale il terzo punto della nostra linea argomentativa sostiene invece un migliore ambiente culturale in oriente basti pensare alla cultura greca l'oriente bizantino godette di una prospera vita culturale sicuramente data dalla preservazione della cultura greca nelle sue inclinazioni classiche tanto quanto nelle rielaborazioni successive basti pensare al neoplatonismo che di fatto è una corrente filosofica ispirata dal pensiero platonico tant'è che appunto in oriente c'è un grande sviluppo appunto di accademie filosofiche tant'è che l'accademia platonica verrà chiusa soltanto nel 529 quindi un periodo non di nostra appartenenza di fatto pensiamo alla cultura cristiana l'infero bizantino è il fulcro del nascente ribattito teologico cristiano tutti i grandi concili si verificano appunto in oriente ancora la cultura laica gli studi giuridici godettero appunto di un periodo di notevole floridità si distensa in particolare la scuola di Berito Beirut è proprio sinonimo di questa grande commissione culturale con l'oriente ricapitolo quindi la nostra linea argomentativa ribadendo il valore della continuità grazie alla stabilità il primo punto sostiene che vi era una maggiore stabilità territoriale politica il secondo punto sostiene una migliore situazione economica e il terzo migliore ambiente 6 minuti e 31 secondi 6 minuti grazie a tutti passo ora la parola al secondo speaker della squadra con vorrei iniziare confutando alcune argomentazioni della squadra avversaria il primo speaker ci ha parlato di come l'oriente dell'impero romani lui ci ha detto infatti chiamavano se stessi o i romani però questa è una parola greca chiamare se stessi romani in greco significa che in realtà anche se c'era questa idea della romanità effettivamente si era più lontani dalla cultura della romanità poi nelle mie argomentazioni vorrei parlare dei problemi dell'impero d'oriente questo ero in particolare del italiano di cui ha anche parlato il secondo speaker dell'avversaria che ha regnato in un tempo successivo dell'impero d'oriente quindi sarebbe stato vissuto da qualcuno dalla generazione o cadde l'impero d'oriente Giustiniano in realtà non era aveva una politica così moderata e sfatare questo mito dell'impero d'oriente come un mondo in cui c'erano molti polimi economici politici c'era in generale una certa stabilità un certo benessere perché infatti vediamo che Giustiniano fu molto violento per esempio nel sedare la rivolta di Mica del 552 in cui una lotta tra due fazioni sfocia poi in una rivolta contro l'imperatore l'imperatore dimostra molta sicurezza e incapacità perché non sa come gestire la situazione inizialmente cerca di mantenere la pace poi si vuole schierare con una delle due fazioni che però non accetta la sua alleanza finisce per dover struncare la rivolta con decine di migliaia di vittime quindi questo significa che non aveva una grande occupazione da parte del popolo perché una strage per dover sedare una rivolta significa che i sudditi quindi questo noi ipoteticamente che viviamo ad oriente non saremo così bene dopo la caduta in perdocia inoltre Tifuniano aveva un'idea particolare sulla religione e scrive che nulla compiace di più Dio se non l'unità di credo da parte di tutti e non intende soltanto che devono avere una religione e pretende addirittura di contrastare i vari rami della cultura cristiana per esempio seguitò molto il monofisismo c'è anche un ambiente in cui si fatica cioè si si vede male anche a causa di queste persecuzioni c'è quindi anche violenza e invece in l'incidente abbiamo una cultura che abbiamo diverse culture comunque si scontano ma anche quando i cosetti barbari entrano in Italia alla fine c'è poi sempre vediamo per esempio con Giangobardi abbiamo un'integrazione delle altre culture e non una lotta così Ossi sanguinaria come quella di Giustiniano nei confronti dei monofisismi che è vai ah subito un'integrazione Caniano morì nel cinque circa un secolo quindi dopo la tutela occidente ha regnato tempo quindi sarebbe vissuto il regno inoltre oltre a questi problemi di politica interna anche in politica estera Giustiniano non abbia molti successi infatti anche se riuscì per un certo tempo a avere delle conquiste in Italia comunque si ritira poi davanti all'esercito spagnolo di Visigoti e anche davanti all'esercito Franco questo quindi significa che l'impera d'Oriente era così forte e anche la economica e la potenza economica di cui ci parla l'avversaria non era tale da poter sostenere battaglie contro i Visigoti e contro i Franchi quindi forse è giusto sfatare questo mito dell'Oriente come un vero ideale in cui c'è sperità da tutti grazie a tutti per la scuola 5 minuti e 19 secondi grazie a tutti Grazie. Passo ora la parola al terzo speaker della squadra pro. Vorrei cominciare provando a confutare. Innanzitutto nel primo punto presentato dalla prima speaker si è presentato un impero d'occidente che indubbiamente vive una commissione culturale con le popolazioni barbare che entrano all'interno dell'IMES romano. Tuttavia si è fatto riferimento a dei processi estremamente lunghi che non provano in alcun modo come nell'asso di tempo subito successivo al 395, quindi alla morte di Teodosio I, effettivamente le condizioni di vita fossero migliori nell'impero d'occidente e che quindi fosse preferibile vivere in questo territorio piuttosto che nel ben più florido impero d'oriente. Si è fatto ad esempio riferimento alla lingua e a tutta un'altra serie di fenomeni culturali che indubbiamente contraddistinguono l'Europa che noi viviamo e indubbio non è negabile che la nostra Europa sia frutto di una commissione culturale fra l'Europa latina e quella barbarica. Ciò non di meno si tratta di processi che durarono secoli. Le lingue, soprattutto quelle volgari, cominciarono a presentarsi in Europa ben 5-6 secoli dopo, addirittura di più rispetto all'asso temporale che stiamo trattando oggi. C'è stata forse poi un po' di confusione in merito alla scansione temporale che interessa il dibattito di oggi. La mozione recita subito dopo la morte di Teodosio, facendo riferimento ovviamente a Teodosio I, che avviene, come già detto nel 395. Ecco, noi ci siamo concentrati fortemente su quel subito dopo e abbiamo preso in considerazione, come già esplicato dal primo speaker della nostra squadra, un lasso di tempo che era una speranza di vita verosimile per un cittadino dell'epoca, quindi all'incirca 40 anni. Ora, prendere in considerazione Giustiniano vissuto nel secolo successivo ci sembra davvero una considerazione fuori luogo. Peraltro la nostra definizione temporale non è stata, mi sembra, rigettata dalla squadra avversaria e quindi abbiamo dedotto che fosse stata accettata. Ciò non di meno. Prendendo pure in considerazione Giustiniano, visto che la squadra avversaria ci si è concentrata molto, si è fatto riferimento a diverse rivolte che sono state sedate nel sangue da Giustiniano. Ebbene, oltre a non provare assolutamente come si vivesse effettivamente meglio nell'impero d'Occidente, ma unicamente a tentare di svalutare quello d'Oriente, che comunque noi non abbiamo mai sostenuto essere perfetto, bisogna tener conto che proprio nel periodo preso in esame la violenza, la paura, il timore erano sicuramente cifre distintive della vita in Occidente. Le invasioni barbariche, il processo di deurbanizzazione, un'economia totalmente in condizioni critiche non possono sicuramente ricondursi a una situazione di stabilità, sicuramente non paragonabile a quella dell'impero d'Oriente comunque. Si è poi fatto riferimento anche all'intolleranza religiosa, addirittura si è detto nei confronti di diverse branche dello stesso cristianesimo. Ebbene, l'intolleranza era essa stessa una delle cifre dell'impero d'Occidente. Pensiamo ad esempio al sottogruppo del culto cristiano rappresentato dagli ariani, una minoranza presente in Occidente, abbracciata soprattutto a livello di culto religioso da molte popolazioni barbariche. Ebbene, gli ariani erano effettivamente vittime di un processo di intolleranza estremamente rigido e severo. Si pensi che gran parte, a realtà tutti i vescovi di credo ariano in Occidente furono allontanati dal loro ruolo per essere sostituiti da vescovi cattolici. Quindi non si può parlare assolutamente di un Occidente tollerante e di contro a un Oriente intollerante. Ancora vorrei risoffermarmi sul fatto che la squadra avversaria non si è affatto soffermata su quali fossero effettivamente le condizioni che resero la vita in Occidente migliore rispetto a quella d'Oriente, ma semplicemente si sono limitati ad attaccare alcuni aspetti, alcune criticità che indubbiamente sono veritiere nell'impero d'Oriente, peraltro in un periodo estremamente successivo a quello che a parere nostro si dovrebbe trattare. Si è poi fatto riferimento in una confutazione al fatto che nell'impero d'Oriente i bizantini si definissero oiromaioi in greco. Ebbene, forse questa è proprio la massima espressione della romanità. Ricordiamoci che la romanità è stata resa grande dalla sua capacità di integrare nella sua cultura quella greca e in generale ciò che di volta in volta si riteneva degno di essere integrato nelle varie popolazioni sottomesse. Quindi il fatto che si definissero proprio in greco è effettivamente forse la più alta espressione di ciò che Roma ha rappresentato nella storia. E vorrei ribadire quello che è stato il nostro gancio per tutto il dibattito, una frase di Aldous Huxley che sosteneva che non c'è civiltà senza stabilità sociale ed è quello che abbiamo provato a dimostrarvi nella nostra linea. L'Oriente vive un periodo di estrema floridità dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Si tratta di una delle potenze mondiali addirittura del tempo e non dimentichiamo che l'impero bizantino non cadrà prima del 1453, avrà ancora mille anni di storia davanti a sé. Detto questo, ricapitolo velocemente la nostra linea argomentativa. Il nostro primo punto era incentrato intorno a una maggiore stabilità politica dell'impero romano d'Oriente rispetto a quello d'Occidente. Il nostro secondo punto si concentrava invece su una maggiore floridità economica dell'impero d'Oriente. E il nostro terzo punto, infine, è stato incentrato intorno al migliore ambiente culturale dell'impero romano d'Oriente. Detto questo, concludo il mio intervento e ringrazio per l'attenzione. e ringrazio per l'attenzione. Passo ora la parola al terzo speaker della squadra contro. Buon pomeriggio a tutti, sono Abus Irma del liceo Giolitti Gandino e sono la terza speaker della squadra contro. Vorrei innanzitutto confutare quanto è stato detto dagli speaker della squadra pro e ribadire i punti di forza del nostro discorso e quindi quello che è stato detto dai miei compagni. Innanzitutto sul fatto della scansione temporale, ovvero di cosa voglio dire questo subito dopo la morte di Todosio, anche se può sembrare che immediatamente dopo la divisione tra l'impero romano d'Oriente e l'Occidente, nell'impero romano d'Oriente ci fossero dei fattori più migliori per la vita delle persone, chiunque pensa comunque sempre alle generazioni future e quindi in un'ottica di futuro l'Occidente si risolleva da quelle che sono forse delle ceneri della decadenza dell'impero d'Occidente e quindi pensando più in larga scala come avrebbe fatto magari una persona che pensa alla propria prole durante quegli anni, si può vedere che anche l'impero d'Occidente poi offre una vita agiata. Innanzitutto voi avete detto che la caduta di Roma era stata vista come descritta dagli storici del tempo come la fine del mondo, eppure Occidente non significa essenzialmente Roma, l'impero romano d'Occidente era composto da molti stati, da molte province e il saccheggio di quella che era stata un tempo certo il cuore dell'impero romano d'Occidente poteva sconvolgere le persone all'epoca, però c'erano altre città che raccolsero l'antico splendore di Roma, ad esempio Ravenna che fu poi scelta come sede dagli ultimi imperatori romani, ad esempio da Romulo Augustolo che fu l'ultimo imperatore romano, e Ravenna fu una città anche dal punto di vista culturale prospera. Voi avete il secondo speaker, per confutare quanto era stato detto dai miei compagni, aveva detto che l'intolleranza religiosa era presente anche in Occidente allo stesso modo che in Oriente, ma gli stessi speaker della squadra pro hanno detto che la maggior parte dei concili sulla religione cristiana si tenero in Oriente e in questi concili la maggior parte delle volte si condannavano proprio queste eresie della religione cristiana, come ad esempio l'arianesimo e questo va a confermare il fatto che nell'impero d'Oriente si perse un po' quella che era stata una delle caratteristiche principali dell'impero romano, ovvero la tolleranza religiosa nei confronti degli altri popoli, in quanto i dissenzienti, quindi coloro che non aderivano perfettamente all'ortodossia cristiana venivano spesso perseguitati e le loro rivolte si date con il sangue. Infine avete anche affermato che i romani basavano molto della loro cultura sull'assimilare da culture diverse, ad esempio da quella greca, ed è poi la stessa cosa che avverrà anche in Occidente con i regni romano-germanici, in cui le popolazioni barbare o germaniche, che già erano stanziate nei territori d'Occidente e non furono così dannose e distruttive come spesso viene descritto, ma anzi fu un processo molto lento e graduale e le popolazioni germaniche imparano anche a convivere con i cittadini romani. Anche questo è un esempio di integrazione, quindi una caratteristica tipica dell'impero romano nel suo massimo splendore. Infatti queste integrazioni fra popolazioni germaniche e i romani condurranno a un incontro fra culture e popolazioni diverse che ridarà anche un po' stabilità alla parte occidentale dell'impero dopo quello che era stato un periodo buio, dopo l'anarchia militare e comunque una serie di staccheggi come anche quello di Roma. Questi imperi romani-germanici grazie all'integrazione fra popoli appunto ridaranno stabilità all'impero. Grazie per la vostra attenzione. Cinque minuti e undici. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Passo ora la parola al primo speaker della squadra contro per la replica. Come replica io ho anche il compito di riassumere le argomentazioni di cui si è occupata la nostra squadra. Infatti noi siamo partiti con l'introduzione storica, quindi abbiamo parlato della situazione storica in cui avvennero questi fatti, parlando dell'imperatore Teodosio che appunto prese il potere dopo la battaglia di Costantinopoli. Le problematiche che dovette affrontare non appena ebbe questo ruolo e infine alla sua morte lasciò in eredità appunto le due parli dell'impero ai suoi rispettivi figli. Noi inizialmente abbiamo parlato delle invasioni barbariche, sì che la squadra avversaria ha appunto detto il termine invasioni di per sé negativo, quindi ha di per sé un aspetto negativo anche dal punto di vista di significato. Comunque abbiamo visto come in realtà queste invasioni poi si siano rivelate utili che e per quanto la mozione riguardi subito dopo la morte di Teodosio, in realtà queste invasioni avvennero subito dopo la morte, ma che comunque è da lì che iniziò il processo di progressione linguistica, culturale, sociale, insomma che portò poi alla Roma o comunque all'impero d'Occidente che troviamo poi nel Medioevo. Quindi insomma queste invasioni comunque portarono in qualche modo alla progressione della parte occidentale dell'impero. Abbiamo poi parlato, il mio secondo speaker ha poi parlato degli aspetti per così dire negativi dell'impero d'Oriente, infatti citando Giustiniano che ha ben sì, abbiamo ribadito lui, non è un periodo proprio subito dopo la morte di Teodosio, ma che comunque le generazioni appunto nate nell'anno o comunque negli anni vicini alla traduzione dell'impero vissero insomma questi momenti per coloro che stavano in Oriente. Quindi parliamo di come Giustiniano, in realtà lui per quanto attuò una politica che dal lato può sembrare positiva, dall'altro in realtà lui si occupò anche di rivolte politiche, infatti il mio collega ha citato la rivolta linica avvenuta nel 532 che appunto portò ad una crisi sociale o comunque rivolte popolari che per quanto mi riguarda non sono solamente simbolo di un governo o di una politica positiva. Inoltre ha parlato anche delle rivolte che Giustiniano attuò per quanto riguarda le religioni, infatti voi stessi avete detto che appunto lui nel 529 ha chiuso la scuola di Atene che era uno dei centri massimi di importanza per quanto riguarda la regione greca, quindi considerata pagana ovviamente dopo l'avvento del cristianesimo e che quindi lui insomma obbligò per così dire la popolazione, l'impero d'Oriente a intraprendere questa nuova religione di conseguenza togliendo la possibilità di seguire insomma il culto che si voleva. Abbiamo poi infatti parlando anche del, per quanto riguarda il monofisismo, quanto lui attaccò a questo culto, quindi per quanto riguarda questo punto di vista fu sicuramente una politica sanguinaria e per quanto non avvenne appunto, ribadisco come ho detto prima, per quanto non avvenne subito dopo la morte di Teodosio l'età fu conseguenza di quello che avvenne dopo insomma. Grazie ancora per l'ascolto. Tre minuti e ventitré. Tre minuti e ventitré. Passo ora la parola al primo speaker della squadra pro. Di nuovo buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Gonzi e sono il primo speaker della squadra pro. Sono qua oggi ad avere l'onere, ma preferirei dire l'onore di aprire e chiudere questo magnifico dibattito che si è espresso in questa magnifica sala e che ha visto confrontarsi due squadre su una mozione che a noi personalmente ha interessato molto sia preparare e sia discutere. Ora vi presenterò i punti di scontro che hanno animato questa discussione. Il primo è il periodo storico. La squadra contro nel suo dibattito, nei suoi argomenti, nei suoi eventi, nella sua contestualizzazione hanno parlato di un periodo storico che era estremamente successivo, il periodo che si discute nella mozione, oppure precedente, quindi la morte di Teodosio, parlando di imperatori vissuti molto dopo e di fatti accaduti successivamente. Mentre noi, il pro, abbiamo contestualizzato un periodo subito dopo, l'abbiamo definito e abbiamo discusso nei nostri argomenti una serie di eventi e di fatti che rispecchiano perfettamente la definizione della mozione, quindi un subito dopo. Il secondo punto di scontro è stato appunto il vivere. La squadra avversaria ha parlato di questo concetto del vivere solo considerandolo ai piani alti, un po' in maniera quasi filosofica, un po' in maniera alta, elitaria, senza tener conto delle effettive difficoltà che un cambiamento traumatico così repentino nell'impero d'Occidente ha portato con sé, mentre noi abbiamo tenuto conto del fatto che il concetto del vivere fosse un concetto effettivamente complesso e che dovesse guardare a vari aspetti, portandovi la nostra linea argomentativa in modo quanto più completo possibile, considerando tutti gli aspetti e tutte le fasce della popolazione, da chi viveva come contadino a chi si occupava della cultura anche la più alta, la più filosofica. Quindi di noi si presenta un mondo dove la romanità continua a vivere, continua a prosperare a tutti i livelli, un mondo concretamente stabile, mentre la squadra avversaria sosteneva un mondo per noi troppo astratto, un mondo che si estende molto nel tempo, molto dopo la morte di Teodosio. Ma ora voglio lasciarvi con questa immagine. Facciamo un gioco, come se effettivamente avessimo la macchina del tempo e avessimo la possibilità di tornare indietro a quest'epoca. Non vi incuriosirebbe molto spostarvi in una dimensione che è geograficamente lontana della nostra, al posto che tornare in una dimensione geografica che è vicina alla nostra? A noi sì, anche perché diversamente da quanto si può pensare, ci potremmo ricredere sull'effettiva distanza tra Oriente e Occidente, che è appunto il tema di questo Festival del Classico, e scoprire che siamo anche figli dell'Oriente, un Oriente che è davvero quanto più romano di quanto si pensi. In conclusione, per dimostrarvi ciò che noi abbiamo definito, vi lascio con una frase di Orienzio, Vescovo della Gallia, nel communitorum. Nei villaggi e nelle ville, nei campi e nei crocicchi, in tutti i borghi, sulle strade e da ogni parte, morte, dolore, massacri, incendi e lutti. Tutta la Gallia, e quindi tutto l'impero d'Oriente, fumo in un solo rogo. Grazie. Tre minuti e otto secondi. Tre minuti e otto secondi. Allora, credo molte grazie da parte di tutti noi, è stato veramente appassionante. Adesso è il momento in cui i nostri giudici si ritirano per deliberare, come si suol dire, e quindi li lasciamo andare in un posto tranquillo. Come avrete notato, c'erano anche delle pause in cui la nostra moderatrice fermava l'alternanza della discussione, perché appunto i giudici dovevano valutare sotto diversi aspetti ogni singolo intervento, e ora con tranquillità mettono insieme quanto da loro appunto meditato per elaborare chi sarà, quale sarà la squadra vincitrice del dibattito. Allora, mentre loro sono appunto così ben occupati, noi ci occuperemo altrettanto bene tra di noi. In primo luogo, ancora grazie a tutti e grazie a Maria che è stata veramente. Credo di poterlo dire a nome del comitato, cioè ogni anno noi vediamo queste squadre dibattere, noi le abbiamo anche viste nel momento di preselezione, cioè quando ci siamo radunati al Gioberti che mette a disposizione appunto i suoi spazi e devo dire anche lì era veramente appassionante e sotto certi aspetti doloroso, cioè noi qui al circolo dei lettori stamattina e oggi abbiamo visto quattro squadre, ma vi assicuro erano dieci squadre molto molto preparate che come al solito ci hanno riempito di soddisfazione, perché quando vediamo ragazzi e ragazze fare qualcosa che noi, lo diciamo tutti gli anni, alla loro età non avremmo neanche mai concepito di fare e non avevamo proprio quella capacità che ora studentesse e studenti hanno, rimaniamo incandati. Però al di là dell'incanto siamo anche sempre molto curiosi, vogliamo sempre sapere un po' di cose. Di solito la prima domanda è come tradizione, d'altronde noi appunto alla disputa noi seguiamo la tradizione, quindi cose greco-romane, insomma cose antiche. Di solito la tradizione è domandare alle squadre se fossero soddisfatte in primis del ruolo pro o contro. Voi sapete loro, l'abbiamo anche ripetuto oggi, loro arrivano qui pronte al dibattito, ma è solo nel giorno, nel momento del dibattito in cui sapranno se saranno pro o contro una determinata posizione. La prima domanda, faccio che dirle tutte due così poi ci si prepara al dibattito. La prima domanda è appunto se sono soddisfatti, soddisfatte insomma del ruolo che hanno ottenuto dalla sorte, dalla moneta e poi invece parliamo della mozione. Posso iniziare con voi, cioè con oratrici e oratori del Giolitti Gandino? Inizio dicendo che sono in realtà molto soddisfatta in generale di quello che abbiamo fatto in questi mesi, preparazione anche di quello che abbiamo fatto oggi, insomma comunque è stato un dibattito affascinante dal punto di vista storico, quindi sicuramente è un argomento importante comunque o comunque interessante, intrigante da tutti i punti di vista. Per quanto riguarda il ruolo che ci è stato insomma associato oggi, noi eravamo pienamente soddisfatti poiché eravamo sicuramente molto più, eravamo sicuramente molto pro, quindi da quel punto di vista è stato un po' più complicato gestire il dibattito anche poiché gli avversari erano molto preparati, faccio i complimenti perché insomma argomentazioni molto buone, quindi è stato anche molto difficile da quel punto di vista, però nonostante questo siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, anche delle professoresse che ci hanno aiutato, della squadra preparazione che ci ha aiutato, quindi comunque vado insomma, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, la mozione era molto interessante, ripeto, e inoltre per quanto riguarda invece il ruolo che ci sono associato, sì era un po' più complicato anche poiché vediamo che le argomentazioni erano molto più a favore, comunque parlando così al deludente, però siamo comunque soddisfatti di ciò che abbiamo fatto insomma. Io vorrei iniziare, innanzitutto mi sono divertito e mi è piaciuto sia fare la preparazione sia dibattere oggi e anche io avrei preferito sostenere il pro perché a mio viso era più semplice anche dal punto di vista storico, i dati e le esperienze che abbiamo degli storici ci consentivano di sostenere più facilmente il pro e anche io personalmente penso che sarebbe stato molto meglio vivere in Oriente. Io come ho già detto Sofia sono innanzitutto contenta e onorata di aver partecipato a questo torneo e ringrazio tutta la mia squadra ma anche gli avversari e le professoresse che ci hanno aiutato a prepararci e oggi sì la parte che ci è capitata è stata su quello su cui ci eravamo preparati un po' più difficile da affrontare però abbiamo provato con le armi che avevamo quindi siamo comunque soddisfatti e comunque contenti dell'esperienza che abbiamo fatto. Abbiamo ancora un membro della squadra da sentire perché voi sapete, cioè avete visto e sapete che ci sono tre speaker ma c'è anche un altro elemento chiave nella squadra. Salve a tutti, sono Andrea Ciaccardi, appunto sono la riserva del gruppo che oggi faceva il pro. Contro, scusate, scusate. Il cuore lo porta, anche lui voleva dire. Comunque oggi è andata piuttosto bene, comunque c'è stato magari qualche problema sul tempo tra le squadre quindi sulla tempistica di B. I giudici non sentono, sono tranquilli a deliberare il loro pensiero, l'hanno fatto, lui osserva. No, però comunque il bello di questo debate è stato che comunque noi siamo riusciti a scoprire entrambe le parti dell'impero e di come è stato caratterizzato anche soprattutto la cota dell'impero di Roma e come è proprio dall'altra parte, quindi entrambi gli aspetti culturali che ci sono creati. Quindi comunque è stata una bella esperienza e speriamo che duri. Buongiorno a tutti, sono Matteo Gonzi. Quando ho detto nella ringa che è stato un onore discutere questa mozione non lo dicevo solo per retorica, è stato davvero un onore prepararla. È stata una mozione molto interessante anche per la specificità del periodo storico, quindi questi pochi anni dopo la morte di Teodosio e per cui sono venute fuori tutta una serie di difficoltà particolari nella preparazione. Comunque ringrazio i nostri coach e la squadra avversaria per averci permesso di discutere questa mozione. Diciamo che avremmo preferito il contro in realtà, per cui ci saremmo potuti scambiare molto volentieri. Lo rifacciamo volentieri a parte diversa. Perché l'abbiamo trovato più stimolante, effettivamente il pregiudizio storico è molto più a favore del pro che del contro, per cui avremmo preferito discutere il contro, ma ci è comunque data bene così. Detto ciò ringrazio ancora tutti per averci dato questa davvero splendida opportunità. Grazie a tutti. È un'emozione molto complicata secondo noi, molto complicata anche perché il periodo storico è molto sottovalutato tendenzialmente, quindi sicuramente è stato stimolante nella fase di preparazione perché appunto abbiamo studiato un periodo storico appunto molto florido in Oriente, tanto quanto in Occidente, ma appunto molto poco valorizzato secondo noi. Quindi davvero sono molto contento di essere qui, molto contento dell'esperienza. Grazie a tutti. Io sono Jacopo Placentino, mi accodo a quello che è già stato detto, volevo fare comunque complimenti alla squadra avversaria. Sì, penso che anche io avrei tendenzialmente preferito sostenere il contro, però è stato già solo interessante prepararlo, diciamo, perché è una fase storica che in Occidente si perde un po' di solito fra i manuali di scuola e quindi già solo preparare la mozione è stato, dal mio punto di vista, molto gratificante a livello culturale e direi questo. Io sono Beatrice Barra e questa sera non ho dibattuto, però in realtà concordo con quello che hanno detto i miei compagni, nel senso che per questa mozione, nello specifico, ma più in generale nel dibattito penso, è sempre molto interessante andare a sfatare quelli che sono i miti e gli stereotipi che si creano per forza di cose nel corso della storia. Quindi forse il contro sarebbe stato ricco di stimoli effettivamente, però è sempre interessante in realtà cambiare punti di vista. Personalmente nel corso della preparazione ho cambiato opinione circa dieci volte perché a seconda di un argomento pensavo che effettivamente fosse meglio vivere in Oriente, in Occidente, però insomma il punto è che è sempre interessante metteresti in discussione al di là di tutto e complimenti anche agli avversari. Per curiosità, posso sapere, per curiosità, quale sarebbe stata la vostra linea argomentativa appunto nel contro? Prof? Diciamo che abbiamo teso ad eliminarla. C'è, c'è. Sì, vabbè, in realtà era essenziale la contestualizzazione nella quale tentavamo un po' di sfatare il mito delle invasioni barbariche. La parola è tentare, ho capito bene. Sì, ovviamente era tutto un tentativo. Tentare di sfatare appunto il mito delle invasioni barbariche, facendo riferimento al fatto che la storiografia contemporanea tenda appunto a parlare più che altro di trasformazione. Il nostro valore sarebbe stato il dinamismo, proprio in virtù appunto di una fioritura culturale abbastanza tangibile in Occidente. E il dinamismo in che chiave? Questa volta entro anch'io nel dibattito. Il dinamismo sicuramente. Nel senso che, se mi ricordo, è stato molto sottolineato nella discussione l'aspetto dell'emozione, cioè il famoso subito dopo. Perché in realtà anche noi, vi svelo un segreto che forse è il segreto di Pulcinella, Cioè, quando noi elaboriamo le emozioni, non facciamo un autentico dibattito, però noi tre ne abbiamo buttate parecchie nel cestino, metaforicamente parlando, perché ho cancellate dal... Ah sì, nel cestino del computer, è verissimo, quindi ciò corrisponde a verità. E per questa emozione, in effetti, io ho subito detto, anziché avrei abbracciato il contro con grande entusiasmo, proprio perché l'idea per me era abbraccia il futuro, abbraccia la trasformazione, abbraccia il cambiamento, e non, pur essendo appunto un appassionato docente di letteratura greca, e non rimaniamo su ciò che è sicuro e consolidato, no? Però noi stessi nella emozione abbiamo proprio messo, cioè era un po' il tema anche della percezione della crisi, che chiaramente si fa più forte, più ci si allontana da quel punto lì. Era solo questo che volevo introdurre nel dibattito. Infatti anche noi avremmo tentato appunto di renderla molto in termini contemporanei, no? Noi da giovani avremmo preferito vivere in un contesto storico, geografico, dinamico, appunto, effervescente, frizzantino, però appunto è un po' una forzatura, la riconosciamo un po', però insomma il dinamismo è in questo senso, sì, quindi... Molte grazie. E tra il pubblico c'è qualcuno che vuole porre domande o presentare osservazioni sul tema? Sì? Volevo chiedere se avreste preferito la prima emozione della prima semifinale oppure questa? Noi questa invece, assolutamente questa. Siamo nel posto sbagliato noi. Sì, mi è piaciuta la totale identificazione. Uno con la dichiarazione che sicuramente lei avrebbe voluto vivere lì. E poi l'altro, il cuore appunto che ha gettato oltre l'ostacolo, cioè nella direzione sperata pro, come posizione pro sicuramente. Ecco un'altra domanda. Volevo chiedere un po' a tutti, come ci si sente a dover sostenere una tesi in cui non ci si crede fino in fondo? Qual è la sensazione? Come vi sentite nelle vesti che non sono le vostre, molte volte, no? Questo è un po' in generale, non solo in questa. Su alcune tesi che magari possono avere anche un coinvolgimento morale o queste cose, io almeno cerco di guardare soltanto ai fatti, senza pensarci troppo, perché comunque se no verrebbe anche emotivamente avere un po' a sostenere il contrario. Però se si pensa soltanto alla tesi senza troppo razionalmente, senza lasciarsi anche portare dai pensieri, viene più facile. Per noi è un po' un lavoro di empatia, cioè in questo caso bisogna, quando uno sostiene una tesi opposta a quello che si crede, un po' mettersi nei panni di un avversario, di qualcuno che sia di fronte ipoteticamente. Questo, sia che si cambi idea nel corso del lavoro, sia che si mantenga la propria, aiuta ad arricchire ciò che dentro di noi sosteniamo e a farci capire che in realtà le cose non sono mai così semplici come ci vengono poste, ma in realtà sono davvero molto più complesse. Molte grazie a tutte e a tutti. Abbiamo tra noi la giuria che quindi prenderà posto lì, lì, sono troppi, certo. Quindi dove li mettiamo? A Leggio che si alternano? Dove la giuria preferisce collocarsi? Ah beh, guarda caso, io ho un unico gelato da dare, l'unico portavoce. Prego. Grazie innanzitutto, voglio fare complimenti a entrambe le squadre e farei un altro applauso perché... La mozione quest'anno era particolarmente complicata, quindi abbiamo notato l'impegno di entrambe le squadre e per questo vi facciamo i complimenti. Cercherò di essere il più schematico e riassuntivo possibile. Abbiamo individuato due punti, come dire, positivi in entrambe le squadre. Per quanto risguarda la squadra pro abbiamo apprezzato la capacità che avete avuto di individuare i nodi delle argomentazioni della squadra contro e soprattutto la capacità di confutare questi nodi in modo chiaro, nitido, minuzioso e pertinente. Quindi complimenti, siete stati davvero chiari ed efficaci. Nella squadra contro abbiamo imprezzato invece lo stile molto spontaneo, molto, come dire, convincente, con cui avete sostenuto le vostre argomentazioni, quindi complimenti. Alcune note, alcune cose che si possono migliorare. Ricordiamo il rispetto del format a partire dalle tempistiche. Alcuni interventi sono stati troppo brevi, altri troppo lunghi, quindi mi raccomando le tempistiche sono importanti e poi inficiano sul giudizio e sui punteggi. Ricordiamo che le definizioni dei termini vanno posizionate nel primo intervento perché, come dire, stabiliscono un po' i confini entro cui si dibatterà. Quindi è importante che siano chiare e definite nel primo intervento. Vogliamo porre l'attenzione sulla distinzione tra argomentazione e esempio. In alcuni casi ci è sembrato che l'argomentazione fosse l'esempio, invece sono due cose distinte, quindi dovete imparare a estrapolare dall'esempio, insomma, l'argomentazione e citare poi la fonte per corroborare la vostra argomentazione. Da ultimo abbiamo notato una mancanza da entrambe le squadre nel fare domande. C'è stato poco dialogo da quel punto di vista, quindi mi raccomando, almeno una domanda-intervento secondo noi è necessaria. Ho concluso, spero di essere stato breve e chiaro. Proclamiamo all'unanimità vincitrice la squadra dei nuovi oratori del Cavour. Proclamiamo inoltre il miglior oratore e abbiamo scelto Jacopo, purtroppo non sotto cognome, Jacopo Placentino. Grazie ancora e passo la parola alla professoressa Berano. Molte grazie alla giuria per la sua puntuale restituzione e molte congratulazioni ai nuovi oratori, ma anche molti complimenti alla squadra, agli Argonauti, oggi si era parlato della catavasi degli Argonauti del Giolitti Gandino. Allora con la disputa ci diamo appuntamento sabato mattina alle ore 9.30 presso l'Accademia delle Scienze di Torino e precisamente nello splendido Salone dei Mappamondi, dove la squadra dei nuovi oratori avrà modo di incontrare la squadra che stamattina è risultata vincitrice nella disputa classica, vale a dire la squadra del liceo d'Azzeglio. E quindi arrivederci a presto!